Buongiorno e ben ritrovati in un nuovo video, io come sempre sono Davide e questo è il mio canale dove trattiamo finanza personale, mercati finanziari ed investimenti. Nel video di oggi parliamo di una tematica che secondo me è particolarmente interessante per chi ha un portafoglio di azioni da dividendo, perché spesso se abbiamo investito in aziende che risiedono all'estero, a parte alcuni pochissimi casi in cui non c'è una trattenuta alla fonte del dividendo, dobbiamo pagare una doppia imposta, ovvero il nostro dividendo viene tassato alla fonte e poi nuovamente tassato in Italia. Questo ovviamente è un costo molto più elevato per i nostri dividendi rispetto ai dividendi che andiamo a prendere dalle azioni che sono in Italia, perché veniamo tassati una sola volta. Quindi come risolvere questo problema? Tendenzialmente se vogliamo avere l'azione non è risolvibile, però si può creare una posizione sintetica che è uguale identica a quella dell'azione, cioè andiamo a creare un payoff che è uguale identico, andando a prendere il dividendo pieno e avendo una serie di altri vantaggi. Quindi l'obiettivo del video di oggi è appunto andare a vedere questa cosa, spiegare come funziona e andare a vedere quali sono i pro e i contro di questa strategia. Iniziamo quindi con la presentazione e andiamo a spiegare come evitare le trattenute sui dividendi, le trattenute alla fonte. Prima di iniziare come sempre potete lasciare un like per supportare il canale, inoltre se il video vi è piaciuto potete anche interagire nei commenti dicendomi cosa ne pensate sui dividendi o sulla trattenuta sui dividendi, in generale cosa ne pensate del video. Se siete nuovi sul canale e non volete perdervi altri video di questo tipo potete iscrivervi al canale cliccando sulla campanellina per non perdervi neanche uno dei miei video. Comunque iniziamo parlando di dividendi e facciamo un'introduzione sui dividendi. Più o meno sapete la mia idea sui dividendi, perlomeno chi già mi segue sa la mia idea. Ovvero i dividendi sono uno strumento utilizzato dalle aziende per remunerare gli azionisti, sono sicuramente utili appunto per remunerare gli azionisti e gli azionisti possono usarli in vario modo reinvestendo nella stessa azienda, in altre aziende e quindi in investimenti alternativi o ribilanciando il portafoglio. Però questi tendono ad essere abbastanza inefficienti soprattutto per chi sta accumulando il capitale e non per chi sta ricevendo una rendita. Ovvero i soldi che ci vengono consegnati vengono tassati e magari io non avrei voluto tirarli fuori da questa azienda, magari avrei preferito un buyback o magari avrei preferito un investimento maggiore da parte dell'azienda che poi alla fine se l'azienda fa un buyback io effettivamente questi soldi li posso tirare fuori andando a vendere una piccola parte dell'azienda. Ovviamente vado incontro a delle commissioni nella vendita ma a oggi le commissioni sono così basse su tantissimi broker che probabilmente è più conveniente per noi andare a vendere una parte dell'azione quando vogliamo andarla a vendere della posizione nell'azione piuttosto che a ricevere dei dividendi. Ma comunque questo non è l'argomento del video. A questo poi si aggiunge il problema che andiamo a cercare di risolvere oggi che è quello del dividend withholding cioè la trattenuta alla fonte di una parte del dividendo in alcuni paesi stranieri, quasi tutti i paesi stranieri a parte pochi. Cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro dividendo viene tassato alla fonte e poi nuovamente noi quando lo riceviamo in Italia dobbiamo andare a tassare questo dividendo. Capite che a noi ci arriva meno di due terzi del dividendo iniziale perché dobbiamo pagare le tasse alla fonte e qua in Italia. Ma esiste una soluzione. Ovviamente è giusto pagare le tasse nel senso da qualche parte dovremmo pagarle però preferiremmo pagarle solo da una parte tendenzialmente nel nostro paese anziché doverle pagare sia alla fonte che successivamente. Questo è possibile non ovviamente acquistando azioni ma con una strategia abbastanza particolare che andremo a vedere. La strategia ci permette di replicare il payoff dell'azione quindi l'andamento rispetto all'azione è pressoché identico però ovviamente non andiamo a prendere l'azione. Quindi andremo ad incassare il dividendo anticipato quindi a t0 nel momento in cui facciamo l'operazione. Questo vi spiegherò in un momento successivo come è possibile e la strategia inoltre ci protegge dal tasso di cambio. Anche questo lo andiamo a spiegare nel corso del video. Facciamo una piccola parte di introduzione. Qua mi riconnetto ad un altro video che avevo fatto io sulle opzioni. Se non l'avete visto ve lo faccio apparire qua in alto perché secondo me conviene andarlo a vedere per capire a pieno quello che stiamo facendo oggi. Qua vedete che ci sono due payoff cioè questa linea blu è una short put e quest'altra linea blu è una long call. Se andiamo a sommare questi due payoff vediamo che effettivamente short put e long call hanno un'inclinazione di 1 tendenzialmente quindi il payoff è 1 a 1 dipendente dal prezzo dell'azione. Quindi cosa vuol dire? Se l'azione sale di un dollaro questa strategia guadagnerà un dollaro. Un dollaro per azione ovviamente per azione a cui siamo esposti. Se scende di un dollaro andremo a perdere un dollaro. Questo payoff è ottenibile quindi in modo speculare attraverso una strategia con opzioni. Qua sull'asse delle Y cerchiamo di spiegarlo ancora una volta c'è il payoff. Sull'asse delle X il prezzo dell'asset nel nostro caso l'azione e vediamo che se questo è il prezzo dell'azione di oggi quando l'azione quindi sull'asse delle X guadagniamo un dollaro anche il payoff guadagna di un dollaro. Quando guadagneremo due dollari anche il payoff sarà di due dollari e così via. Quindi a livello teorico siamo proprio 1 a 1. Spieghiamo matematicamente. Lascerò i timestamps qua sotto quindi avete i vari capitoli. È abbastanza magari sembra complesso perlomeno ma non lo è. Se volete potete schippare questa parte però credo che sia importante per capire a pieno cosa si sta andando a fare. Fondamentalmente qua questa è la formula della call e questa è la formula della put. Cosa vuol dire questo di 1? Allora in modo molto semplice andiamo a vederlo in modo il più semplice possibile. S è il prezzo dell'azione, X è lo strike. Quindi fondamentalmente noi acquistando una call andiamo a guadagnare quanto l'azione è sopra lo strike. Questa è l'idea di fondo di questa formula. A questo poi ci aggiungiamo alcune probabilità per cui diciamo che D1 è la probabilità per cui l'azione sia al di sopra dello strike. Sulla put siamo all'opposto e vediamo che abbiamo lo strike meno il prezzo dell'azione perché è la put diciamo che è influenzata in maniera opposta rispetto alla call. E andiamo a vedere anche la formula di D1 per andare a capire alcune cose. Innanzitutto andiamo a vedere che all'interno di D1 abbiamo un meno gamma. Gamma è il continuously compounded dividend yield e questo cosa vuol dire? Vuol dire che questo gamma va a influenzare positivamente il valore della call e negativamente il valore della put. E qui c'è una spiegazione anche abbastanza logica come spiego qua sotto. Cioè gamma ha un impatto negativo sul valore della call e positivo sul valore della put. Quindi la spiegazione logica è che lo stacco del dividendo avrà un impatto negativo sul prezzo dell'azione perché quando viene staccato il dividendo teoricamente il valore dell'azione scende di quanto viene staccato di dividendo. Quindi la probabilità che la put venga esercitata ha un valore intrinseco super... che la put abbia un valore intrinseco a scadenza e quindi che venga esercitata è superiore rispetto a quella della call allo stesso strike price perché effettivamente abbiamo anche questo dividend yield che ci porta ad avere una probabilità maggiore rispetto a quanto non si abbia sulla parte della call. Quindi se siamo long sulla call e short sulla put abbiamo un delta circa di 1. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra posizione all'incirca replica sinteticamente il payoff di un'azione come vi mostro nel grafico precedente. Quindi un lotto long di call e un lotto short di put è paragonabile ad acquistare 100 azioni allo strike price a cui andiamo ad acquistare. Quindi se le opzioni le andiamo a prendere a uno strike ad esempio di 30 è come se andassimo ad acquistare la nostra azione a 30 e dal 30 avremo questo payoff che è identico a quella dell'azione. Andiamo a fare un esempio. Qua ho scelto Vici che è un'azione abbastanza grande ma che non ha una capitalizzazione di mercato enorme. Diciamo che ci sono delle aziende un pochino più capitalizzate su cui il mercato dell'opzione magari è un pochino più liquido. Nel corso dei prossimi 434 giorni se non sbaglio Vici dovrebbe staccare quattro cedole. Il dividendo per azione è di 144 dollari nel nostro caso perché è 144 dollari per azione. Cosa succede se noi andiamo a prendere una call out of the money e andiamo a vendere una put in the money? In questo caso andiamo a pagare 240 circa se andiamo a mettere un ordine dentro allo spread e 485 circa se anche qua andiamo a mettere un ordine dentro lo spread ovviamente questo è uno dei problemi ma dopo lo andiamo a trattare dopo e andando a mettere questo ordine abbiamo un delta di 1 quindi abbiamo il prezzo dell'azione che è identico al payoff di questa strategia. Il cash flow AT0 è semplicemente quanto abbiamo ricevuto di premio della put e quanto abbiamo pagato di premio di call. Al contrario se andassimo a pagare a prendere il dividendo andremmo a prendere questi 144 dollari di dividendo nel corso dell'anno quindi teoricamente anche questi il cash flow che abbiamo AT0 andrebbe scontato ma visti i tassi di interesse attuali non ha senso andarlo a scontare e qua oltre a questo dobbiamo aggiungerci il premio perché nel momento in cui andavo a vedere questo ordine vici era 2893 vi ricordo che se noi andiamo a fare questa operazione con l'azione intorno ai 30 dollari con lo strike a 30 dollari dobbiamo andarlo a fare quando l'azione comunque intorno ai 30 dollari perché andiamo a prendere a pagare un premio sulla differenza quindi cosa vuol dire dovremo richiedere oltre a questi 144 dollari di dividendo anche il premium di 107 dollari questo è in totale 251 dollari vedete che è praticamente uguale al cash flow che riceviamo leggermente superiore ma poi dopo dipende anche dal momento e dal prezzo a cui vengono fillati i vostri ordini può essere che riusciamo ad avere qualcosa meglio qualcosa peggio eccetera quali sono i vantaggi in aggiunta oltre a questa cosa del dividendo ricevo il dividendo sintetico in modo anticipato e quindi è reinvestibile da subito volendo pagherò le tasse come un capital gain perché perché semplicemente vado ad aprire due posizioni nel momento una volta passato l'anno in cui andrò a chiudere o a rollare queste posizioni dovrò andare a pagare il profit and loss di questa posizione cosa significa che se perdo dall'esposizione delle put più di quanto ho ricevuto come premio non pago le tasse sul dividendo sintetico ovvero se ad esempio vici dovesse arrivare a 26 dollari nel corso dell'anno ok e andassi a vendere l'azione e avessi percepito il dividendo nel mio caso se compro l'azione vado a incassare una minusvalenza dalla parte dell'azione e sul dividendo di questi 144 dollari vado effettivamente a incassare all'incirca due terze diciamo un pochino meno ma diciamo all'incirca due terzi e questa è una cosa cioè non è ottimale perché perché sul dividendo devo pagarci la tassa e non vado a incassare cioè mi perdo un terzo di dividendo e sull'azione invece vado a incassare una minusvalenza che sì ok posso compensarla con altre plusvalenze ma non è detto che la vada a compensare e invece in questo modo se andiamo a chiudere le posizioni in profitto andremo a pagare la tassa se andiamo a chiuderla in perdita andremo a incassare la minusvalenza ma comunque il dividendo sempre dividendo sintetico tra virgolette e la posizione vanno a compensarsi e quindi pago solo le tasse sul capital gain oltre a questo ricevuto il premio converto in euro quindi cosa vuol dire sul dividendo non siamo esposti al dollaro cioè riceviamo il dividendo e lo convertiamo in euro sulla posizione nemmeno sono sono esposto al dollaro perché andando a fare questa questa strategia dobbiamo semplicemente avere un margine di mantenimento ma questo margine di mantenimento possiamo tranquillamente mantenerlo in dollaro e in questo modo il nostro pnl sarà impattato dal movimento euro euro dollaro ma non effettivamente il valore totale della posizione quindi l'esposizione al dollaro è praticamente nulla solo il margine di conseguenza andrà ad aumentare o a diminuire nel senso che se il dollaro guadagna di valore avremo bisogno di più margine perché se dobbiamo acquistare la posizione dovremo andare ad includere più margine se il dollaro perde di valore noi con i nostri euro abbiamo bisogno di dare meno margine e così via quali sono gli svantaggi di questa strategia perché ovviamente ci sono è più complesso da gestire rispetto a un semplice acquisto cioè se andiamo a comprare un rit possiamo comprarlo metterlo in portafoglio è finita lì con questa strategia dobbiamo andare a prendere le opzioni e di tanto in tanto dovremo anche rollarle quindi dovremo anche pagare le tasse ogni volta che le rolliamo e così via oltretutto è più difficile da applicare se il mercato è meno liquido abbiamo già visto su bici che comunque qua dovremmo ad esempio mettere l'ordine tra i due spread per guadagnare di più ovviamente anche mettendolo al mercato probabilmente si va a guadagnare anche se molto meno però c'è sempre da considerare che questo dividendo andrebbe incassato a un terzo cioè noi quasi 50 dollari in meno non vengono vengono ricevuti se andiamo a prenderla prenderci questo dividendo nel modo classico poi oltre a queste due cose ovvero la minore semplicità e comunque il problema se il titolo le opzioni non sono molto liquide e la necessità di operare a moltiplici di 100 azioni che ok su dei titoli che hanno un prezzo per azione molto basso o per investitori che hanno un portafoglio molto molto ampio non è un non dovrebbe essere un grosso problema perlomeno però per degli investitori che hanno appena iniziato ad investire o per dei titoli che hanno un prezzo per azione molto elevato andare ad operare 100 azioni per la volta a volta quindi avere un'esposizione a 100 azioni beh può essere un certo rischio perché può sbilanciare il portafoglio e oltre a questo è un problema perché potrebbe essere che non abbiamo nemmeno la liquidità necessaria per per poterlo fare se abbiamo un portafoglio troppo piccolo quindi è un'altra cosa da tenere in conto ma questa è una strategia soprattutto per chi ha un portafoglio di dividendi e che magari ha un'idea di poter vivere di rendita con questi dividendi o avere comunque una parte della propria pensione erogata da questi dividendi con un sacco di aziende che sono all'estero ci permette di incassare molto più di dividendo effettivamente rispetto a quanto incassiamo in modo effettivo sempre se andiamo ad acquistare l'azione vera e propria quindi con questa strategia sintetica abbiamo questo vantaggio che è una cosa sicuramente utile poi ovviamente è da valutare a seconda delle problematiche che può avere il singolo titolo eccetera anche l'idea all'orizzonte temporale e tutto quanto niente spero che il video vi sia piaciuto che sia stato utile che perlomeno abbiate imparato qualcosa anche se magari non è una strategia proprio per tutti e lasciatemi un commento facendomi sapere cosa ne pensate sia della strategia che del video in generale sui dividendi eccetera lasciatevi un commento per interagire con me e con il video e come sempre prima di salutarci potete lasciare un like per supportarmi mi fa molto piacere mi aiuta a crescere quindi per favore se il video vi è piaciuto potete lasciare un like inoltre se siete nuovi sul canale non volete perdervi altri video di questo tipo non è detto che youtube ve li consigli sempre quindi meglio iscriversi al canale cliccare sulla campanellina per essere sempre notificati quando rilascio un nuovo video noi ci vediamo al prossimo video un saluto a tutti ciao ciao